Ciao Vincenzo innanzitutto, grazie mille per essere venuto qui oggi ospite di Hotpot Italia. Mi piacere Matteo, grazie per l'invito. In questo nuovo format che abbiamo creato. Allora Vincenzo tu sei il Chief Marketing Officer di Google Italia, oltre ad avere una fantastica esperienza in moltissime altre aziende internazionali. Come sai Hotpot Italia è una piattaforma che tramite video podcast racconta di tantissimi temi, dal digitale al design alla moda. Un mix di tanti temi proprio come questa zuppa piccante tipica della tradizione cinese. A noi ci piace incominciare con delle domande un po' out of the pot. E quindi ho preparato la prima che è legata al cibo. Qual è il cibo o piatto che ti piace particolarmente e a cui tu associ dei ricordi molto belli? Ricordi molto belli? Incomincio a dire che è difficile ricordare un sapore, no? Quindi quello che si ricordano sono le esperienze. Allora direi, mi viene in mente mia nonna. Ah? Mia nonna era siciliana, della Sicilia rurale. E quindi sapeva cucinare e soprattutto fare pane, biscotti, eccetera. E quindi ricordo che quando andavo a trovarla, lei era poi trasferita al nord per seguire il figlio immigrato negli anni 70. E quando andavo a trovarla a Casal Monferrato, mi preparava sempre il pane e i biscotti. E la cosa che ricordo è proprio quando li portava in camera da letto, dove queste pagnotte sotto la coperta li invitavano. Ok. E poi li mangiavamo ancora caldi. Insomma, è un ricordo di tanti anni fa che sicuramente mi è astretto al cibo e ha quell'esperienza. Fantastico. E invece adesso, visto che abbiamo parlato di pane, parliamo di pasta. Sì. E se dovessi scegliere, diciamo, cultura culinaria italiana, pasta, docet. Certo. Tra carbonara, matriciana e cacio e pepe. Che cosa sceglieresti? Siamo a Roma, diciamo. Allora, se dovessi farla io, direi carbonara. Cioè, in casa, carbonara. Ok. Però se sono a Roma, cacio e pepe. Ok. Perché, insomma, è proprio lì. Infatti, io ho solo mangiato a Roma, non l'ho mai mangiata da nessun'altra parte. Idem, stessa cosa come te. E, beh, visto che siamo anche in area Google, ho letto che se cerchi su Google le ricette, diciamo, più cucinate a casa nel 2021, trovi, se non sbaglio, la besciamella al terzo posto, il pesto e poi la pizza fatta in casa. Ok. Se, tipo, dovessimo fare una cena e un pranzo da te, che cosa ti sentiresti confident di prepararci? Ok, tra queste cose, niente. Però, usando un tutorial che sicuramente troverai su YouTube, direi, tra queste tre cose, forse il pesto, dai. Il pesto? Sì, forse il pesto. Quindi una pasta col pesto. Farei, sì, sì, credo che fare il pesto sia più semplice delle altre. Il besciamella non si prende anche da parte di iniziare. No, no. La pizza, sarei sicuro di fare qualche errore col forno, quindi no, direi il pesto, forse più sicuro. Ottimo. Invece adesso passiamo a delle domande un po' più business oriented. Ok. Come abbiamo detto all'inizio, tu sei il chief marketing officer di Google Italia, ma se andiamo sulla tua pagina LinkedIn, vendiamo anche un sacco di altre esperienze in Unilever, in PepsiCo, non solo in Italia, anche in UK, negli Stati Uniti. Mi piacerebbe moltissimo se ci parlassi un po' della tua carriera, ma soprattutto inizialmente del tuo perché, ovvero che cosa ti spinge ogni giorno ad alzarti la mattina e andare a lavoro e fare quello che fai. Cominciamo a dire che chiaramente sono quasi 20 anni che lavoro nel marketing, quindi i miei perché sono anche cambiati probabilmente nel tempo, insieme a me stesso. Quindi ripartendo, io ho iniziato, tra l'altro adesso siamo qua a Milano davanti all'ex Unilever, era esattamente in quel palazzo lì. Sì, sì, era esattamente lì. E quindi io dopo l'università volevo fare marketing, circa 30 anni fa Unilever era, forse ancora lo è in certi sensi, comunque la scuola di marketing, e quindi sono entrati nel loro programma, che cercavano talenti per crescere il loro programma. E devo dire quindi il mio perché ai tempi era sicuramente riuscire, in quello che mi piaceva, in quel caso del marketing. Ho tantissimi interessi, però sicuramente la parte economica, il marketing era l'area che più mi interessava. E quindi il mio perché era cercare di avere successo all'interno, in realtà molto, con un'eccellenza, ma nel senso tempo competitiva, perché comunque non è facile riuscire a emergere all'interno di un'azienda con tantissimi talenti. E quindi questo era il mio perché iniziale. Poi mi sono mosso molto all'interno di Unilever, all'interno poi delle biografie mondiali, quindi ho lavorato pochissimo in Italia, la maggior parte su mercati globali. E l'invio perché è diventato poter avere un impatto a livello globale. Era molto emozionante, non so, lavorare un progetto, lanciare un nuovo packaging, e poi, non so, andare in Cina e trovarlo lì, e sapere che tu ci hai lavorato nel tuo ufficio, con i tuoi colleghi, era molto, molto bello, e anche molto interessante riuscire a mischiare questo con la crescita personale. Che forse, quindi torniamo adesso al giorno di oggi, rimane ancora il mio gran perché, no? Cioè, a me piace poter lavorare sempre, potremmo dire, non di edge, no? Sempre nella parte quasi sperimentale, perché ti permette di crescere, no? Quindi molto spesso fai cose che magari non hanno successo, perché sono nuove, molto spesso ce l'hanno, e quando ce l'hanno sei molto contento di aver provato cose nuove, imparato nel journey, e poi, insomma, far diventare male qualcosa che hai fatto, una sorta di blueprint, no? Per il futuro. Ah, una bellissima risposta perché, diciamo, il perché con gli anni non rimane sempre stabile, no? Cioè, cambia moltissimo, viene influenzato da un sacco di anche esperienze che tu puoi fare e di circostanze in cui ti trovi. Sì. E poi hai parlato anche dell'essere in una realtà internazionale molto grande, che comunque è molto competitiva, con un sacco di talenti, e in cui spesso e volentieri fare quello che, diciamo, è necessario non è mai abbastanza, anche per distinguersi, credo, personalmente. No, è particolare, sì, sì, è molto stimolante, ma la prima cosa che stimola veramente sono i tuoi colleghi, no? Cioè, sono circondato da persone davvero molto, molto brave, e spesso le persone che magari arrivano dal mio team, magari anche giovani, nuove, dall'università, ne sanno magari più di me, no? Certo. Larry Page, il fondatore di Google, diceva sempre che bisogna sempre assumere qualcuno più bravo di te. Sì. E questo è vero, perché comunque sei in una logica di costante learning, no? Sì. Credo che ormai questo sia davvero una cosa che bisogna accettare. Non esiste più un mondo nel quale finisci in università e per vent'anni utilizzi quello che hai imparato nell'università. No. No. Di fatto sei in costante learning e quello che hai fatto cinque anni fa non vale più. E quindi devi, per definizione, essere costantemente... Aggiornato. Aggiornato, come se fosse un studente, sinceramente. Non si finisce mai di veramente imparare. No, no, assolutamente. E ti va un po' di raccontarci adesso qual è il tuo ruolo, che cosa fai nella tua daily routine, diciamo, e anche qualche magari progetto su cui hai avuto modo di lavorare che ti ha particolarmente entusiasmato e che ti ha impattato in questi anni. Ma allora, il mio lavoro in Google è molto particolare. Google è un'azienda, dal punto di vista marketing, molto complessa. Nel senso che ho un portfolio di prodotti davvero ampio, ma completamente diverso l'uno all'altro. Quindi la mia routine non esiste. Nel senso che io magari mi siedo e parlo di YouTube. YouTube è una piattaforma, dal punto di vista, diciamo anche business o marketing, è una piattaforma che produce, che trasmette video, quindi è nel mondo dell'entertainment, quindi competitors, quali sono? Possono essere la tv, piuttosto che la radio, piuttosto che un libro, eccetera, eccetera. Poi magari finisco la riunione e parlo di telefoni, o di questo nostro pixel, quindi Google produce anche prodotti. E quindi magari a quel punto si parla di prodotti, eccetera. Oppure faccio un meeting e si discute di advertising, come aiutare le piccole e medie imprese a andare online e poter in qualche modo cambiare il proprio business, no? Quindi la famosa trasformazione digitale. Quindi facciamo progetti che cercano di aiutare le piccole e medie imprese, anche le grandi per carità, ma soprattutto le piccole, le piccolissime che non hanno magari gli strumenti per farlo, per cercare di fare vedere loro come fare, magari creare strumenti facili di utilizzo. Certo. E quindi come vedi è molto, no? Quindi ho iniziato parlando di YouTube e finisco a parlare di advertising e questo può succedere in una mattina. E veramente passi da... E immagino che anche le sfide siano molto diverse da parlare di prodotto a parlare di advertising, ci siano challenges sopra diverse... Sì, veramente anche solamente il vocabolario, oppure i business, cioè i key metrics, no? Cioè se parlo di YouTube posso parlare di watch time piuttosto che di subscribing o di... E quindi parlo di quel tipo di linguaggio. Se parliamo di quanti Google Hub abbiamo venduto, quindi di prodotti di Nest, no? Quindi di speaker, per dirne uno. Li parli, ma di metri che di venite, rotazione, negozio, telemarketing, davvero molto, molto... Diciamo... Molto varie, molto varie. Però tornando al progetto che più mi ha... Insomma che mi è piaciuto, in realtà sono tutti quei progetti che hanno un impatto sull'ecosistema italiano. Ok. Nel senso che Google chiaramente è un'azienda, come tutte le aziende promuove i propri prodotti, ma allo stesso tempo ha un impatto, insomma, è molto positivo all'interno dell'ecosistema italiano, sia questo quello economico, sia questo quello sociale. Nel senso che adesso ho parlato di YouTube prima da un punto di vista marketing, però da un punto di vista poi anche di users e di utilità, cioè quanti tutorial, per dirne una, abbiamo imparato, no? Guardando YouTube. E quindi l'impatto che YouTube positivo può avere sulle persone è incredibile. È un grandissimo impatto. Però non solo Google, perché per esempio mi raccontavi che sei anche nel board di alcuni master. Sì. E ti va di raccontarci un po' all'interno di questi master? Sì, in realtà, in realtà, anche come in questo momento, mi piace l'idea di poter, insomma, dare indietro un po' quello che ho imparato. Ti dicevo prima che, insomma, quando avevo la tua età, ero molto giovane come te, insomma, sognavo di poter in qualche modo avere un accesso, no? A persone che magari avevano fatto un po' più di esperienza. E credo che adesso ormai nella mia vita, nella mia carriera, sia arrivato il momento in cui penso di poter avere un bagaglio che può essere utile, no? Le persone che vogliono. E quindi lo faccio con piacere, no? Quando c'è la possibilità di poter in qualche modo aiutare, in questo caso, so, Politecnico, piuttosto che RCS, che ha creato dei master, do il mio contributo per cercare di capire quali sono i nuovi trend, perché la difficoltà ad oggi è quella di capire esattamente che cosa va studiato banalmente, no? Quindi si è quasi un po' invertito il mondo, diciamo, dell'education, nel senso che non è più una questione solamente accademica, ma soprattutto le materie economiche, di marketing, diciamo, è il campo quasi, no? Che fa scuola a volte. Poi chiaramente il mondo accademico è molto bravo a prendere quello che è successo, distillarlo e cercare di spiegare le logiche dietro, no? Però questa relazione tra, credo, impresa e il mondo dell'istruzione sia fondamentale proprio per poter distillare e rendere un po' più fruibile quelli che sono i learning che vengono fatti. E devo dire che però è anche utile per me perché molto spesso fai qualcosa, lavori senza neanche avere molto chiaro il perché o il percome di un certo successo o insuccesso. Quindi in realtà anche prendersi il tempo per cercare di, da un che è stato vero, no? Prenderne, magari strutturarli come solamente un professore in grado di fare, aiuta anche a me a capire come poter replicare quel successo, magari modificarlo, assolutamente, per continuare ad avere ancora più successo. Super, super, hai super ragione. E poi, visto che comunque abbiamo parlato di marketing e sono sicuro che molte persone che ci stanno ascoltando e guardando si considerano dei marketer. Certo. Vorrei sapere un po', secondo te, che cos'è, cioè chi è il marketer, che cosa fa e soprattutto sfide ed opportunità che un marketer può incontrare nel 2022. Ma allora, il marketer è una figura quasi unica nelle aziende, è in teoria l'unico che è in grado di conoscere molto bene il prodotto, molto, molto bene, ma molto, molto bene anche l'utilizzatore, l'utilizzatrice di questo prodotto. E quindi è quella figura che deve connettere le due cose. E quindi necessita davvero un impegno importante nella conoscenza del prodotto. Banalmente ricordo quando ero in Unilever, io, cioè, non dico che ero in grado di fare un detersivo, però avevo molto imparato di chimica, di supply chain, di packaging, di tutto quello che comporta il prodotto. E allo stesso tempo, chiaramente, la maggior parte del tempo era investito a conoscere il consumatore, in quel caso, dicevo, ero a capo di alcuni brand internazionali, quindi volavo spesso, in quel caso c'era un business molto forte in paesi di sviluppo, e quindi volavo e parlavo con, in quel caso era consumatrice, la maggior parte del target in quel caso era femminile, capire come fisicamente prendiamo quella della casa, quindi andavo fisicamente a casa loro, facevo domande su come, qual era la routine, quindi veramente cercavo il più possibile di avere informazioni sul consumatore. Quindi a quel punto univi e cercavi di assicurarti che quello che creavi anche la comunicazione, ma anche sul prodotto o anche la comunicazione, fosse in linea con quello che serviva di fatto poi all'utente, allo consumatore e alla consumatrice. Quindi questa è la parte, cioè, diciamo che fondamentale del nostro lavoro. E poi mi chiedevi invece le sfide? Le sfide e opportunità. Allora. Diciamo che viviamo in un momento molto challenging, non solo per il Covid, ma per un miliardo di altri fattori. e volevo capire secondo te un marketer adesso quale ha come sfide principali o opportunità, perché molte sfide possono essere delle opportunità secolte. Ma io credo che la più grande difficoltà di oggi rispetto sicuramente quando ho iniziato è la velocità del cambiamento. Ok. È un cambiamento davvero importante e quindi riuscire a seguire questo cambiamento su magari mercati anche molto vasti è molto complicato. E quindi da una parte è molto interessante ma è molto complicato. A suo tempo questo può diventare una grande opportunità perché chi le aziende, la direttrice o il direttore marketing che è in grado di intercettare questi cambiamenti magari prima di un altro direttore o direttrice marketing potrà sicuramente beneficiare. E quindi vediamo sicuramente tantissime realtà nuove che propongono prodotti nuovi, propongono non solo prodotti ma anche servizi che possano in qualche modo far crescere quel business. Sicuramente il mondo del digital sta giocando un ruolo decisivo in questo grande cambiamento. Quindi il cambiamento è su tutto, tutto sul media il media che è uno delle tante leve del marketing è in costante evoluzione e quindi anche lì stare dietro banalmente al modo in cui le persone consumano media e quindi poter parlare è molto complicato banalmente insomma fino a due anni fa adesso famigliere un concorrente un'altra piattaforma TikTok neanche esisteva oggi invece TikTok è presente e quindi c'è passi da una situazione che solo due anni fa praticamente non esisteva diciamo sicuramente in Italia come diffusione oggi è molto molto presente in solamente due anni è uno shift totale mentre pochi anni fa la televisione che era di fatto il main media era quello era quello per tanto tempo assolutamente è vero la domanda che vorrei farti è tu come stacchi la spina cioè ci sono dei momenti in cui bisogna evitare il burnout bisogna un attimo rallentare introspettivamente capire che bisogna staccare se poi si vuole riprendere al 100% senza perdere i pezzi per strada e tu personalmente cosa fai? hai delle tecniche particolari hai ma allora innanzitutto ti è capitato? sicuramente allora innanzitutto la cosa più importante è avere la consapevolezza di quello che appena detto quindi già il fatto che la tua giovanità porti questo tema insomma probabilmente ti ti protegge no? da quel rischio perché credo davvero che il più grande rischio è non avere la consapevolezza di quanto sia importante il il riposo posso dirlo in questo modo che se hai fatto la metafora del correre si corre velocemente bisogna quindi se si corre bisogna riposare e quindi questa è la cosa principale avere questa consapevolezza non si può andare 100% all'ora nel mio caso devo dire anche qui è cambiata nel tempo il modo in cui stacco la spina per usare questo termine prima quando non avevo famiglia viaggiavo molto anche grazie ai miei viaggi internazionali poi usavo per esempio avere sempre dei momenti in cui poi staccavo banalmente se devo fare un viaggio da Londra a Bangkok per fare una riunione cosa che forse adesso non si farebbe più però capitava che magari prendevo un aereo solamente per fare una riunione di 6 ore però poi non tornavo subito a casa magari non so se la riunione era il martedì partivo venerdì facevo un weekend lì in modo tale da quel caso assorbire il fusolario facevo la riunione poi se riuscivo magari stavo qualche giorno in più e poi tornavo questo è un esempio pratico oggi adesso io ho avuto due bambini l'ultima bambina appunto Greta è nata un anno e mezzo fa quindi devo dire che la mia vita si è rivoluzionata anche durante il covid tra l'altro quindi molto particolare sembra quasi di aver chiuso un libro e peraltro un altro e quindi sicuramente loro sono la mia fonte di gioia e anche di equilibrio no? esatto perché poi la verità che un bambino o una bambina automaticamente ti da ti fa ti fa cambiare no? sì mio figlio mi diceva basta telefono quando lavoro magari ce lo fare basta basta telefono e quindi ti ricordi hai ragione basta telefono giochiamo siamo qua qui è ora giusto 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 è molto bello e poi ho usato la metafora chiudere il libro prima sì perché poi prima di incontrarci ci siamo detti portiamoci dei libri e consigliamoceli quindi se vuoi inizio io e ti dico che libro ti ho portato sono molto curioso visto che abbiamo parlato di pasta all'inizio sì io ti ho portato Il mito delle origini breve storie degli spaghetti al pomodoro che è un libro che dal titolo sembra un po' strano ok però è un libro super storico e secondo me anche un marketer ci può cogliere moltissimi spunti perché perché parla delle origini degli spaghetti e di tutto ciò che gira attorno agli spaghetti al pomodoro ma spiegando che gli spaghetti al pomodoro come li conosciamo oggi e come li consideriamo oggi nella nostra quotidianità sono il frutto di convenzioni sociali fattori sociali culturali che hanno veramente permeato la nostra la nostra vita la nostra società e anche quella passata e quindi secondo me per un marketer può essere una lettura molto utile tra l'altro quindi è anche come l'Italia poi ha preso forse un cibo non proprio immagino e ha fatto diventare esattamente che ci pensi è incredibile un po' come il caffè no? esatto cioè siamo un paese dove chiaramente non è tropicale non abbiamo cresciuto mezzo picco di caffè eppure infatti va proprio indietro non so parlando dai primi esploratori con anche cenni storici abbastanza lo leggerò volentieri e tu invece cosa mi hai portato? allora io ho portato un libro prima parlavi di balancing life eccetera si chiama Authentic Success è scritto da Robin Holden che è un ricercatore sociologo psicologo che ha avuto l'opportunità di incontrare e lavorarci insieme quando ero in New Level e poi in realtà anche in Google abbiamo fatto quando si poteva fare due giorni è venuto a lavorare con il mio team di fatto lui parla di cosa vuol dire veramente successo e di fatto la teoria che poi io sposo completamente è che in questo mondo molto veloce dove è tutto urgente tutto importante è difficile riuscire a capire veramente che cos'è successo per se stessi e quindi in questo libro dà dei suggerimenti innanzitutto aumenta la consapevolezza di come sia fondamentale per ognuno di noi poi questa può essere individuale o anche di team o anche di azienda ma è importante distillare con precisione certosina che cosa vuol dire è successo per te e non è solamente successo sul lavoro ma banalmente anzi se puoi fare questo esercizio ti accorgi che magari il successo per te è stare bene conoscere persone non so la definizione di successo è molto varia è molto personale esatto esatto quindi ti dà prima ti aiuta ad avere una stella polare una north nella bussola al nord e poi a quel punto ti aiuta a capire come eliminare dalla vita tutto quel rumore che non è funzionale al tuo successo bellissimo e devo dire che personalmente devo dire per me è stata un incontro è un concetto molto interessante che mi ha molto cambiato mi ha migliorato sia dal punto di vista di professionista perché banalmente mi ha fatto ragionare su cosa vuol dire urgente importante certo e quindi magari un inbox che diventa di mille e-mails in una settimana ti accorgi che forse su quelle mille devi leggere magari tutti sono così importanti e urgenti esatto e poi anche sulla vita che cosa vuol dire per te come passi il tuo weekend cosa vuol dire successo puoi farlo sia a livello diciamo a lungo termine ma anche quotidiano cosa è successo oggi per te cos'è importante successo per te e quindi ti invito a leggerlo fantastico grazie mille davvero Vincenzo per ancora per la tua disponibilità e per le tue risposte super interessanti e anche il tuo consiglio del libro grazie per essere stato un piacere essere qua alla prossima alla prossima stop finito andate bene come sei trovato bene spero sia stato utile per te assolutamente quanto durava